Oggi siamo in questo bellissimo teatro che è il teatro Martinetti della città di Garlasco. Io come sindaco sono qui a fare un ricordo importante, il ricordo di Chiara, che ormai sono 17 anni che è scomparsa e subito l'anno dopo l'amministrazione comunale dell'epoca ha istituito la borsa di studio Chiara Poggi. Si sono susseguiti diverse amministrazioni e ancora oggi siamo qui a crederci, a credere nel ricordo di una persona per noi importante nella nostra città. Personalmente ho un ricordo bellissimo di Chiara, veramente una ragazza stupenda, solare, limpida, veramente una ragazza per bene. Quindi oggi che sono il sindaco di questa città con la mia amministrazione crediamo e andiamo avanti a credere in questa borsa di studio per ricordarla. Oggi daremo sei borsi di studio a sei ragazzi, ovviamente abbiamo dei vincitori che sono i primi due ma visto che come sempre esiste un fondo che viene in maniera privata dato per queste borse di studio riusciamo a premiare anche altri quattro ragazzi, quindi in totale sei. Ci fa onore a me, a tutta la mia amministrazione e alla nostra città continuare questo ricordo di questa fantastica ragazza. Grazie.